buongiorno amici e amiche di Fcinte News campioni e campionesse d'Italia ben ritrovati con un nuovo appuntamento mattutino sul canale YouTube di Fcinte News sorrisoni perché ieri sera è successo davvero di tutto ritroviamo il nostro Alessandro Cavasini ben ritrovato Alessandro ciao ciao Raffaele buongiorno a tutti con una maglia speciale Alessandro e io qui dietro un'altra maglia speciale la vedi Alessandro quindi parleremo di entrambe entrambe le cose perché ecco ieri sera sembrava una serata stortissima poi in cinque minuti a distanza di cinque minuti è arrivato prima l'annuncio di questo signorino qui e poi è arrivato anche la rete di Mattia Zaccagna a novantottesimo minuto praticamente l'ultima azione disponibile che ha consentito all'Italia di Luciano Spalletti di pareggiare contro la Croazia e di passare come seconda nel girone soprattutto di avere la certezza di essere qualificata agli ottavi degli europei ce la vedremo contro la Svizzera di Sommer e in doia perché non introderemo da vicino anche in doia e chissà eh se in futuro vestire la maglia dell'Inter sabato pomeriggio le diciotto sarà il primo ottavo di finale se non erro in programma e quindi sabato sera eh ci sarà Svizzera Italia Alessandro partiamo dall'Italia giusto per per poi concentrarci eh interamente sull'Inter sulla questione eh Ciananolu eh sembrava ecco un'altra serata storta eh Spalletti che ha modificato il suo credo tattico eh rispetto alle prime due partite la difesa tre quella che abbiamo visto no con bastoni centrale questa no novità rispetto a quello che vediamo nell'Inter Darmian che eh viene viene schierato dal primo minuto Di Marco sulla eh sinistra Frattesi che entra partito in corso Varella da Mezzala ecco che idea come diciamo ti è piaciuta rispetto magari alla partita con la Spagna d'Italia eh e soprattutto magari anche una un voto magari un giudizio alla prestazione dei Nerazzurri allora guarda ehm in realtà poi il il pareggio è arrivato nel finale ma credo che la sconfitta sarebbe stata comunque una moneta troppo pesante da pagare per per l'Italia che non ha eh brillato chissà chissà quanto ma nemmeno la Croazia è stata una partita sostanzialmente da pareggio eh tra le due squadre chi ha creato di più è stata proprio l'Italia eh se proprio vogliamo restare a livello di palle gol soprattutto finché la partita è rimasta diciamo nel negli argini della situazione tattica tecnica senza componenti particolari all'euro psicologico devo dire che l'Italia ha fatto meglio della Croazia ma lo lo sapevamo insomma la Croazia non è un in un ottimo momento l'Italia ho apprezzato la quasi ritenzione di Spalletti che nelle prime due uscite eh aveva alternato no difesa quattro in fase di non possesso difesa tre in fase di impostazione ieri ho visto idee un po' più chiare da questo punto di vista forse anche lui si è reso conto che magari complicando troppo il canovaccio eh diventava difficile anche fare le cose più semplici e devo dire che l'Italia aveva giocato fino a un certo punto anche in maniera discreta senza troppi senza troppi squilli però gestendo bene dietro anche bastoni comunque restando centrale io continuo a vedere un un equivoco in quel in quel settore perché hai ai mancini hai buongiorno io capisco eh chiaramente la la le potenzialità di Calafiori però se ce ne hai due sempre in quel ruolo non puoi fare come l'Inghilterra che è l'unica nazionale al mondo che gioca con tre terzini destri ne mette uno a destra uno a sinistra uno a centrocampo e infatti anche l'Inghilterra non è che l'equivoco ha risolto è come quando c'era Del Piero e e Baggio come quando c'era Rivera e uno gioca e un altro subendo se no non se ne esce anche perché così rischi di perdertene eh due poi ce l'hai buongiorno lo vogliono tutti Mancini comunque è uno che aggredisce può può essere utile lo so che manca Cerbi ma allora ci fosse stata Cerbi voglio dire uno tra Calafiero e Bastione non giocava eh e quello ti va secondo me mettendo bastoni centrale ti pregiudica anche la catena di sinistra con Di Marco e là si vede il lavoro che fa l'Inter di di Inzaghi rispetto a che come vedi Di Marco certamente aveva problemi no non era al massimo però dipende anche come lo inneschi ieri tre quattro volte che si è sganciato la palla invece di dargli all'Aren avanti l'hanno data sul sul posto sulla piazzola e quindi perdi per dell'abbrivio no? Eh però devo dire che un pareggio meritato al di là di come poi sia venuto eh non ho visto prestazioni così pessime come come ho letto in giro sempre molto chiaramente no Raph condizionati al risultato anche gli interisti mi chiedevi eh bastoni bene anche se non ho capito il movimento sul gol di Modric perché si abbassa ma come se gli chiamassero la palla che non vorrei che qualche furbetto lì dietro ha chiamato la palla in stile Milan-Juve no? Quando segna baggio di testa anzi Juve-Milan di di diversi anni fa e fa il cosetto fallo acustico lui va proprio si abbassa nel momento di invece lui non deve mai chiaramente eh abbassarsi lì devi spazzare ok eh però tutto sommato bene bastoni ehm di Marco sotto tono ma lo sapevamo che non stava benissimo Darmian l'ho visto molto molto punti eh molto punito nelle pagelle ma anche fuori ruolo di fatto perché poi spostato a sinistra la non l'ho capita tanto invece finché ha fatto il braccetto ha dato anche certezza a Di Lorenzo che infatti si è visto un Di Lorenzo diverso no da qui e fra te si entra nell'azione del gol attirando a sé un centrale e la mediana e poi credo Barella forse per lucidità comunque è stato tra i meno i meno peggio diciamo diciamo così per frattesi bisogna anche no sottolineare il il tocco di braccio no è piuttosto evidente con la mano braccio che in modo che è stato puntato poi nell'azione del calcio di rigore parato poi da Donnarumma dopo trenta secondi c'è stata ecco quella distrazione totale del reparto difensivo io sinceramente su bastoni devo dire che ecco è un esperimento che eh quello di Spalletti che non verrà riproposto contro la Svizzera perché Calafiore squalificato quindi mi aspettano bastoni braccetto di sinistra allora no dovesse essere confermata la difesa a tre ma credo che Spalletti andrà su questo quindi magari con il segmento di buongiorno Mancini eh centrale con Darmian magari confermato no come braccetto di destra e Di Lorenzo di davanti perché siccome non rinuncerà eh a a Di Lorenzo eh bastoni centrale no che è stata anche un qualcosa che Inzaghi ha provato negli allenamenti quando siamo stati in emergenza con De Braia Cerbi tutta la situazione eh ci siamo anche interrogati no su chi potesse in qualche modo no ricoprire il ruolo di centrale tra i difensori che restavano a disposizione di di Inzaghi qualcuno diceva perché non proviamo Pavar perché magari no qualcun altro diceva perché non proviamo Bissec perché tutti eravamo convinti del fatto che bastoni non dovesse essere assolutamente spostato da lì perché è un qualcosa che funziona perfettamente io ci aggiungo Alessandro anche Michitana nella catena di sinistra perché secondo me ieri vedendo il primo tempo di Pellegrini ho avuto veramente la percezione dell'importanza di Michitana nel 3-5 di Inzaghi che è un giocatore che gli fa entrambe le fasi in una maniera impeccabile quindi quando ci chiediamo perché viene mai tolto Michitaria vedetevi la prestazione di Pellegrini che veniva praticamente improverato sempre da Spalletti e soprattutto l'aiuto che non dava in fase di interdizione non sto non sto screditando Pellegrini che per me rimane comunque un giocatore importante anche in ottica nazionale però in quel sistema tattico devi fare entrambe le fasi quindi da quel punto di vista di Michitaria capiamo il perché Inzaghi non ci vorrei mai rinunciare bastoni in realtà a me è piaciuto ieri piaciuto come marcatore cioè nelle mie attenzioni noi non rivolte a marcatore a netto della sbavatura sul gol che sicuramente no è piuttosto evidente per il resto però ha lottato poi c'erano attaccanti anche di posizione no a parte della Croazia soprattutto nel secondo tempo con Budimi a me non è dispiaciuto bastoni centrale quindi non so io non sposterei mai bastoni attenzione non sto dicendo niente però siccome anche in chiave inter lì c'hai carlos agusto bisse che non l'abbiamo mai visto ma nell'arus in Danimarca giocava per ciasi ministro forse in zai ieri qualche appunto se l'è preso magari vediamo in futuro o anche nella prossima stagione si sarà una dico questo perché a cerbi è chiaro no arriva arriverà all'inizio della prossima stagione con una pubalgia guarita però la carta identità è quella che è lo stesso per De Vrij chissà magari ragionamenti anche in futuro passiamo a questo signore qui perché cinque minuti prima del gol di Zaccani probabilmente ha detto diamo una gioia ai tifosi dell'inter italiani perché qui magari ecco l'Italia rischia di essere eliminata dagli europei e annunciato Alessandro con un po' stisa quante volte noi diciamo usati social anche per queste cose che magari hanno questa potenzialità ovviamente arrivi a tutti e lo fai in maniera impeccabile io devo fare una piccola precisazione quello che noi abbiamo raccontato non è falso il Bayern Monaco c'era sociale io parlo al passato perché io credo e spero che le dichiarazioni di Cialano vadano a chiudere definitivamente la i rumors di mercato ma questo non significa che il Bayern Monaco non ha bussato alla porta di Cialano o eventualmente anche dell'Inter anche perché Cial altrimenti non avrebbe scritto quel post quindi io faccio questa premessa perché magari qualcuno dice voi giornalisti cavalcate noi raccontiamo quello che accade e il calciomercato è in continua evoluzione quindi Cialano Alessandro ieri sera lancia questo messaggio su Instagram sui suoi profili social e dice devo intervenire perché non volevo farlo perché sono concentrato giustamente da capitano della propria nazionale agli europei però devo farlo visto che non le voci stanno diventando sempre più insistenti e lui dice resto all'Inter sintetizzano quello che è il concetto voglio vincere ancora tanti trofei con l'Inter perché qui ho trovato una famiglia parla di incredibili tifosi parla della squadra e giù nei commenti Darnato vici a Turamma Sommer like commenti e altro si chiude definitivamente questo capitolo Alessandro? Allora io mai dire mai lo sappiamo finché non non c'è la certezza sappiamo che le cose sul calciomercato possono cambiare in un in un secondo però sottolino quello che dicevi tu ehm il comunicato no chiamiamolo comunicato anche se tecnicamente non è però sostanzialmente sì il comunicato di di ciala eh è una presa di posizione eh molto gradita dal mio punto di vista che evidentemente arriva anche in diciamo in accordo con con la società dopo evidentemente alcuni alcuni ulteriori chiarimenti ma non c'era bisogno di chiarire troppo perché come ho sempre eh detto in questi ultimi giorni l'Inter era al corrente di tutto sì quindi secondo me questo messaggio che manda ciala non è tanto a non è vero che il Bayern non mi vuole non è vera la fece eccetera è più che altro a chi stava iniziando a speculare come eh quello che abbiamo detto fino a ieri no Raf cioè a mh accomunare il comportamento di ciala a quello di Lukaku oppure addirittura fare eh la 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 deduzione c'è la no lo sta sfruttando la sponda del Bayern Monaco per ottenere un ulteriore rinnovo di contratto con l'Inter aumentando l'ingaggio quindi secondo me la risposta non è tanto ai rumors sulla volontà del Bayern di prendere Cialanolu quanto a chi stava iniziando a spargere in giro questo veleno ed è stato subito rintuzzato dallo stesso Ciala quindi non mi sembra che le due linee siano perfettamente concordi non c'è eh contraddizione anzi Ciala dice mi piace vincere in futuro e e e parla di speculazioni non parla di indiscrezioni di mercato o di voci parla di speculazioni poi è chiaro questo io mi metto nei panni dei tifosi ti parlo la giornalista so per certo che l'interesse del Bayern c'è che Ciala lo sa e che ha riferito all'Inter ormai diverse settimane fa non parliamo parliamo di oggi però dice ha fatto bene come dicevi tu a mettere la museruola a questi io l'ho chiamati abbellenatori di pozzi no gente che fino all'altro ieri non sapeva nulla e poi se ne esce con retroscena ovviamente non in accettazione positiva ma ma scrive l'Inter incazzata Ciala Nolu come Lukaku e fa il e vuole un anno in più e quindi invece evidentemente non è così sì è chiaro che noi abbiamo sono stato troppo chiaro mi sa sì sì si è andato abbastanza abbastanza chiaro è chiaro che noi l'abbiamo detto il mercato in continua evoluzione quindi poi questa stamani alcuni giornali parlano di retroscena parlano di contatti anche di Ciala con i suoi compagni di squadra giusto per in qualche modo chiarire quella che è la situazione ma è anche giusto che tutti i giocatori siano concentrati sono professionisti con rispettive nazionali noi apprezziamo fortemente il gesto di Ciala poi ripeto parliamo comunque sempre del Bayern Monaco è anche giusto e doveroso che un professionista vada a capire cosa mi offrono lì cosa è il progetto tecnico perché chiaro no parliamo sempre di professionisti di giocatori però ecco Ciala quanto pare pare aver annunciato la permanenza all'Inter poi vedremo se le parole troveranno conferma e questo ovviamente ricambia tutto il mercato dell'Inter in maniera provocatoria no lo dico perché ieri ci stavamo anche interrogando magari su possibilità di aspettare per Bento no per utilizzare un parte del tesoretto di Ciala allora magari l'Inter quando ha saputo che Ciala non voleva più partire ha chiamato Gianni per Martinez l'affare praticamente no ai dettagli pare che la trattativa possa chiudersi per 13 milioni di euro più due di bonus facilmente raggiungibili senza quindi contropartite tecniche nell'affare la questione oristano verrà affrontata probabilmente a parte con il Genoa c'è ancora il Venezia in corsa quindi è chiaro che quella di oristano è una situazione da definire ma non rientrerà nel pacchetto Martinez quantomeno direttamente chiudiamo Alessandro con un'altra notizia di mercato ha parlato un signore Taremi che ha annunciato no ovviamente ha confermato ma questo ovviamente era già già scritto che appunto firmerà un biennale con opzione per il terzo anno con l'Inter lo ha firmato praticamente ha detto che sarà in Italia tra due settimane il ritiro partirà il 13 luglio e lui ci sarà insieme a Zieninski dei primi giorni di ritiro e questa è una notizia molto molto importante perché permetteranno a Inzaghi di lavorare con loro ci dovrebbe essere anche a Slanino che è uscito dagli europei quindi è chiaro che in base a quello che poi sarà il rendimento delle nazionali capiremo quando i giocatori rientreranno a Dappiano e Taremi ha annunciato appunto che ha scelto l'Inter ha voluto fortemente l'Inter ha già parlato con Inzaghi ha avuto modo anche di capire qual è il progetto tecnico che si vuole cucire addosso e ha anche annunciato che ha rifiutato diverse offerte da Inghilterra dalla Spagna dall'Italia sappiamo chi e anche dall'Aleva Saudito un'offerta molto molto importante ha detto io voglio restare no ad altissimi livelli e chi gioca nell'Inter cioè per giocare nell'Inter devi essere un top player quindi è anche una sfida molto molto ambiziosa io credo che con Lautaro Turam e Taremi ad oggi a netto di quello che sarà il quarto quinto sesso settimo attaccante possiamo dire che abbiamo aggiunto già qualcosina lì davanti rispetto alla passata stagione perché acquisisci un giocatore dal peso molto importante in Europa è un giocatore che poi l'abbiamo ricordato ricorda a tratti un po' Dzeko quindi quel giocatore intelligente di stazza lì davanti e soprattutto Goliador quindi bisogna accogliere positivamente questa questa notizia abbiamo parlato di Martins abbiamo parlato di Ciananolo Alessandro abbiamo fatto un bel recap questa mattina negli ultimi ore sono arrivate tante belle notizie qua si passa da a considerare un'estate tranquilla un'estate magari preoccupante diciamo che abbiamo superato Alessandro gli ostacoli Lautaro l'ostacolo Ciala per il momento possiamo andare andare avanti io vedo Zaghi che si sta godendo le vacanze godiamoci con noi e tifiamo ovviamente l'Italia ci rivediamo presto Alessandro sì 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 ci rivediamo presto sperando che non ci sia un'altra un altro gol al novantottesimo e soprattutto sperando che che non ci siano altri post che ti fanno cambiare gli editoriali quando già sapevi no e andava tutto bene ma va bene così purtroppo il nostro lavoro è anche e anche questo siamo lì magari a preparare la risultato finale il tabellino poi magari Zaccani te la mette alla Del Piero perché poi quel gol ricordo anche quello di Del Piero nel 2006 però sono belle sono belle cose sono belle cose nel commento ovviamente dittici voi cosa ne pensate sia della Nazionale Azzurra che dei giocatori che azzurri eh dell'Inter le loro prestazioni cosa ne pensate ovviamente diciamo immagino felicità eh a go go come anche commentate veramente le parole di Taremi cosa ne pensate di Martesi mi raccomando commentate perché noi vi leggiamo e poi ne parliamo ovviamente questo pomeriggio alle ore diciannove in diretta con il nostro salotto non mi resta che lasciarvi con carosissimo sempre Forza Inter Grazie 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 Grazie